via buongiorno allora io sono io e Francesco io mi chiamo Gabriele abbiamo tutti e due un canale il mio si chiama Gabri1112 e il mio BlackFrancie015000 mi raccomando iscrivete allora io non ho ancora fatto nessun video però vi assicuro che i miei amici Fabio e Francesco mi aiuteranno molto presto però intanto se volete potete iscrivervi al mio canale oppure mettere i commenti ok Fabio passami la videocamera così ti posso riprendere oggi anch'io ci sono Fabio02000 un altro amministratore dei canali però vi faremo vedere altri video oltre che a nostri ci stiamo mettendo la fatica per farvi cerchiamo di farvi di fare in modo che a voi nostro pubblico che per noi per voi noi voi siete grandi che guardate i nostri video per noi siete molto almeno abbiamo più visualizzazioni voi siete dei grandi per noi grazie per aver guardato i nostri video noi faremo altri video di guide di guide nel Tendo 3DS Mario Kart 7 e altre cose beh oggi beh alla prossima ok mi raccomando iscrivetevi e guardate i nostri canali arrivederci arrivederci